ragazzi è un prolungare la trasmissione sono stata brava di intrattenere straordinaria veramente brava grazie andiamo in pausa perché come dicevamo appunto c'è una c'è una nuova hit del momento appunto e ritorna sulla nostra radio una vecchia conoscenza lei è Sia l'abbiamo sentita anche con Chandelier famosissima io tutti i giorni bisogna andare a dormire ma sento è una grande artizia la risentiamo qua su Radio Roma Futura questa è Alive ma dobbiamo spicciarci perché ci stanno aspettando tanti inviati abbiamo risolto il problema quindi finalmente la trasmissione decolla the show must go andiamo a Castelverde a casa di Fabrizio ecco abbiamo preso a penereo ci sentiamo qui dopo Sia questa è Alive restate con noi ciao ragazzi believe in yourself sempre sempre grazie a tutti 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 ciao grazie a tutti ciao I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive I found solace in the strangest place, way in the back of my mind I saw my life in a stranger's face, and it was mine I don't want to get to get too rich where all the demons go Where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow No hope, just lies and you're taught to cry in your pillow I'll survive I'm still breathing, I'm still breathing I'm still breathing, I'm still breathing I'm alive, I'm alive, I'm alive I took it out, but I'm still breathing I took it out, but I'm still breathing I took it out, but I'm still breathing I made every single mistake that you could ever possibly make I took and I took and I took what you gave But you never noticed that I was in pain I knew what I wanted, I went on and got it Did all the things that you said that I wouldn't I told you that I would never be forgotten And I knew it's better to you And I'm still breathing 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 I'm alive I'm alive I'm alive Grazie per la visione! 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 E noi sempre 17 Forse è questo il problema No vabbè comunque Un applauso era partito Abbiamo intanto però un ospite Perché se noi non riusciamo a raggiungere I nostri inviati caro Federico Gli inviati ci raggiungono Esattamente così Esattamente E anche l'introduzione Non si è fatto anche introdurre E abbiamo Raffaele vai Noi andiamo via Buonasera caro a tutti Buonasera lui è ovviamente Brand e Raff la coppia fantastica La coppia spettacolare Di condominio Diciamo prendiamola questa trasmissione Come un intro no Raff Sì sì oggi ho voluto dare un benvenuto Qui in radio Sicuramente ci saranno serate Migliori Non hai premuto il campanello però Ecco Spenge tutta la radio Lui ha detto campanello Devo cliccare il pulsante Ecco il citofono Ecco il citofono Senti Raff ma tu sei fidanzato Ma che piccato No Subito queste domande calde proprio Vai No perché se no Allora Posso fare un annuncio? Vai Fai un annuncio Eh Cercasi Ragazzi Ok ecco no io perché C'era C'era un senso a tutto C'era un senso a tutto ciò Quindi dici perché Che tipo di serate fai tu In giro ci porterai quest'anno In giro per dove? Guarda andiamo direttamente sulle serate romane Spaziamo dall'house A musica anni 90 Commerciale Di tutto di più Basta che c'è C'è buona musica e divertimento Divertimento Eppure ragazzi appunto Perché non è fianza E anche ragazzi Ovviamente anche ragazzi certo Giulia per favore Allontanati Solo tranquillo Scherzo ovviamente Federico No io stavo facendo una domanda Io ragazzi stavo facendo A parte che il telefono è bollente stasera Visto che abbiamo anche Saudiamo la nostra Giulia Moriconi Purtroppo non riuscire a E anche E va